E quindi abbiamo visto questo esercizio molto semplice che vale il principio dei lavori virtuali, l'identità fondamentale della meccanica, cioè abbiamo scoperto che effettivamente se prendiamo un sistema equilibrato ed uno concluente, il lavoro virtuale è sempre uguale alla meccanica, questo è l'esercizio che abbiamo fatto. Adesso facciamo per esempio un esercizio utilizzando il principio degli scossamenti virtuali. Nel principio dei scossamenti virtuali noi imponiamo la congruenza, per noi gli scossamenti sono congruenti, questo significa che la B calcolata in N, cioè la B con C è uguale esattamente a questa quantità, sappiamo questo, imponiamo la condizione che il lavoro virtuale esterno è uguale al lavoro virtuale interno e come risultato ci deve venire l'equilibrio, cioè ci dovrà venire che MA è uguale a questo e MA è uguale a quest'altro, cioè questo dovrà essere il risultato della nostra operazione. Ce ne abbiamo capito? Ok, facciamolo. Allora, il lavoro virtuale esterno. Il lavoro virtuale esterno, come al solito, è uguale alla forza per lo spostamento in C e quindi è F per B con C e avendo imposto la condizione di congruenza, vale questa equazione qui, vale questa equazione e quindi al posto di B con C possiamo andare a sostituire questa espressione, quindi è F che moltifica piccola per R più i cubi per R. Va bene? Il lavoro virtuale interno. Il lavoro virtuale interno a che cosa è uguale? è uguale al lavoro delle caratteristiche della solicitazione per le deformazioni. Le caratteristiche della solicitazione sono le MA e MB. Non conosciamo questa espressione, però sappiamo che sono MA e MB. Va bene? E le deformazioni sono le F con A e F con B. E quindi l'altro questo all'interno non è che meno MA per F con A meno MB per F con B. Ecco, come al solito c'è il meno perché per noi i momenti positivi sono quelli antoniali ma le rotazioni F con A e F con B le abbiamo prese positive orarie. Bene, allora a questo punto imponiamo l'eguaglianza del lavoro virtuale, esterno con lavoro virtuale interno. Quindi scriviamo che lavoro virtuale esterno uguale a lavoro virtuale interno. Che significa? Significa direi che questa espressione deve essere uguale a meno N A più F con B per F con B. Bene. E questo punto imponiamo a meno N A più F con B per F con B. E questa uguale deve essere vero per qualsiasi valore di F con A e F con B che noi scegliamo. Per qualsiasi valore. Bene. Quindi qua dobbiamo scrivere per ogni F con A e per ogni F con B. F con B. Bene. Allora guardiamo questa equaglianza e deve valere per ogni F con B. Prendiamo F con B uguale a 0. per esempio. E allora ci rimane F per F con A per F con A per F con A. Dovendo valere per ogni valore di F con A ci viene che M con A per F con A. Bene. Questa equaglianza deve valere per ogni F con A e F con B. Prendiamo F con A uguale a 0. E deve valere per ogni valore possibile di F con B. E se F con A scegliamo pari a 0. ci rimane qui. M con P deve essere uguale a meno F che moltifica M con A e F con B. E cioè abbiamo ottenuto esattamente queste espressioni qua per M con A e M con B. Cioè le espressioni delle sollecitazioni che equilibravano i carichi esterni. Quindi abbiamo scritto un'equazione di equilibrio, eh? Un'equazione di equilibrio tramite, diciamo, la scrittura del principio del lavoro di F con A. E' chiaro? Ultimo caso. Caso delle forze virtuali. Ancora una volta, no, dobbiamo scrivere l'equazione dei lavori virtuali imponendo la condizione di equilibrio. Qua facciamolo. Per Gello abbiamo detto quello che abbiamo scritto alla domagna. E come al solito dobbiamo scrivere il lavoro virtuale esterno e poi il lavoro virtuale esterno e naturalmente il proprio uguale. Allora, il lavoro virtuale esterno è uguale. Il lavoro virtuale esterno, come al solito, è uguale alla forza moltiplicato lo spostamento in C. V con C. Va bene? Attenzione, in questo caso io non vado a sostituire a V con C questa espressione perché non conosco la congruenza. Non conosco ancora questa espressione. Non la conosco. Va bene? Questa espressione deve essere il risultato della nostra operazione. Ok? Quindi ho solo che la forza per riconoscere. Basta. Poi scrivo il lavoro virtuale interno. Il lavoro virtuale interno è il nostro risultato. È che cosa è uguale? Come al solito, l'espressione di un lavoro virtuale interno è sempre lo stesso. È meno m con A per F con A meno m con B per F con B. Lo riscrivo. D'accordo? Però, in questo caso, siamo nell'ultima colonna di questo schema. Impongo la condizione di equilibrio. Significa che le sollecitazioni devono essere equilibrate con i carichi esterni. Quindi m con A deve essere equilibrato con F. Quindi l'espressione di m con A è esattamente questa. L'espressione di m con B è esattamente questa. Le prendo e lo sostituisco nell'equazione. e quindi a posto di meno m con A scrivo F per L e a posto di F per F con A ovviamente e a posto di meno e con B e m con B scrivo F per L mezzi. Bene. A questo punto impongo l'uguaglianza che il lavoro virtuale esterno è uguale al lavoro virtuale interno. Cioè che queste due espressioni devono essere uguali. Questa con questa. Scrivo F per B o C deve essere uguale a F per B o C. Questa. Deve essere uguale a F per L e questo naturalmente deve valere per ogni forza virtuale che io posso andare a mettere. Per ogni valore della F. e dovendo valere per ogni valore della F ovviamente interviamo che B con C è uguale a L per F con A più L mezzi per F con B. e cioè vediamo esattamente questa espressione. Qui abbiamo riottenuto la condizione di congruenza. Va bene? È chiaro? In realtà questo modo di utilizzare in cima delle forze virtuali è esattamente quello che utilizziamo molto spesso quando noi vogliamo risolvere gli schemi più statici con il metodo delle forze. È esattamente questo che lo utilizziamo. Perché noi vogliamo imporre che uno spostamento è nullo di una certa sezione per esempio e come calcoliamo questo spostamento? Lo calcoliamo esattamente utilizzando un sistema equilibrato e imponendo la condizione del principio dell'uguaglianza. È esattamente quello che facciamo. Allora a questo punto possiamo rifare qualche esercizio sul principio dei lavori virtuali. Esercizi che già abbiamo fatto in parte quando abbiamo spiegato il problema grave e il principio dei lavori virtuali solo grave. Però ripetiamo anche con questa ottica qualche esercizio applicando il principio dei lavori virtuali. Allora sugli schemi isostatici per esempio sicuramente abbiamo fatto questi esercizi qui per esempio la trave appoggiata mi ricordo che abbiamo fatto insieme con una coppia M e il problema era calcolare la rotazione a sinistra e la rotazione a destra tramite il principio dei lavori virtuali. Vi ricordate che questo abbiamo fatto insieme. Un altro schema che abbiamo fatto sempre isostatico è quello della trave appoggiata e appoggiata caricata con un carico uniformemente distribuito e determinarci per esempio ancora una volta le rotazioni delle sezioni anche questo vi ricordo l'abbiamo fatto insieme questo esercizio con il principio dei lavori virtuali. Va bene? Facciamo un esercizio un pochino diverso non complicato ma abbastanza semplice però un po' diverso. Per esempio l'esercizio che mi può venire in mente è questo. Ecco. Questo esercizio qui. Va bene? Se questo è A questo è B questo è C voglio calcolare la rotazione relativa delta phi di in corrispondenza di questa cermina centrale su questa struttura che ovviamente è una struttura isostatica. Va bene? Allora che cosa devo fare? Devo definire un sistema degli spostamenti ed è il sistema sul quale naturalmente io voglio calcolare il mio spostamento in questo caso la rotazione della riva è un sistema delle forze che deve essere un sistema che ha delle forze che compiono lavoro esattamente per la mia incontra cioè per la quantità che io voglio calcolare quindi il sistema spostamenti ridisegno la stessa struttura di prima è questa questo è il mio sistema spostamenti il sistema delle forze questa è la struttura scarica come devo caricare quali sono le forze che devo mettere per calcolare la rotazione relativa in corrispondenza della cerniera prima devo mettere due compie uguali opposte magari anche di valore unitario ma possiamo mettere qualsiasi valore ma è più semplice in corrispondenza della cerniera prima a questo punto io sono pronto per scrivere il mio principio dei lavori virtuali che è un principio delle forze virtuali perché queste forze sono virtuali e scrivo lavoro virtuale esterno 1 per delta phi quindi per essere uguale a un lavoro virtuale interno e il lavoro virtuale interno sarà dato dall'integrale tra 0 ed L diciamo che la lunghezza di tutta quanta questa trave è L quindi diciamo questo è elementi e elementi tanto per il tempo scelto la 0 ed L del questo scusate è il sistema forze non l'ho scritto del momento flettente in questo schema qui che è lo schema forze per le curvature su questo schema qui che è il sistema di spossamento bene ci siamo allora naturalmente il passaggio successivo che possiamo fare è dire ma in realtà questa curvatura la possiamo calcolare su questo schema a partire dal momento flettente perché sappiamo che il momento flettente è legato alla curvatura tramite I e quindi possiamo scrivere questa stessa ecuzione come integrale tra 0 ed L del momento flettente sistema forze che moltiplicano il momento flettente sistema spostamenti di diviso in Z e quindi per risolvere questo problema quello che dobbiamo fare è determinare il diagramma del momento flettente nel sistema delle forze il diagramma del momento flettente nel sistema di spostamenti effettuare questa integrazione e alla fine otteniamo la quantità che desideravamo allora cominciamo con come è fatto il diagramma del momento flettente in questo schema allora mi aspetto che voi lo facciate e quindi il nostro problema ricordiamoci qual era è calcolare la rotazione relativa nella cerniera B con questa trave sulla quale sul secondo tratto è applicato un carico uniformemente distribuito l'intensità che cosa abbiamo fatto abbiamo definito il sistema degli spostamenti che è il sistema reale sul quale noi vogliamo andare a calcolare il nostro ente cinematico poi abbiamo definito il sistema delle forze che è il sistema che è caricato da un sistema appunto di forze che compie lavoro per il nostro ente cinematico e in questo caso erano due punti uguali apposti in corrispondenza della cerniera abbiamo scritto a questo punto l'espressione del principio dei lavori virtuali e cioè lavoro virtuale esterno queste coppie per la rotazione relativa in corrispondenza della cerniera B deve essere uguale al lavoro virtuale interno e cioè il lavoro compiuto da un diagramma dei momenti flettenti nel sistema delle forze per le curvature nel sistema degli spostamenti poiché in questo caso la struttura che abbiamo di soluzione è caricata da un carico distribuito le curvature saranno puramente elastiche e quindi la curvatura la possiamo scrivere come il rapporto tra il momento flettente e degli elasticità del sistema benissimo dobbiamo quindi fare questo integrale per fare questo integrale la prima cosa che dobbiamo fare è trovare le espressioni del momento flettente nel sistema degli spostamenti delle forze e il diagramma del momento flettente e l'espressione del momento flettente è il sistema degli spostamenti allora il sistema delle forze era il seguente ovviamente abbiamo che in corrispondenza di questo appoggio il momento flettente è nullo in corrispondenza di questo accendere il momento flettente è unitario perché l'abbiamo applicato noi ed è unitario sia a sinistra che a destra e in questo tratto naturalmente l'andamento del momento flettente è lineare e quindi possiamo automaticamente tracciare questa parte del diagramma del momento flettente e poi possiamo anche proseguire il diagramma del momento flettente in quanto in questo secondo tratto in corrispondenza di questa genera non ci sono forze concentrate applicate quindi il taglio non cambia e poi che non cambia il taglio la pendenza del momento flettente rimane esattamente la stessa rimane lo stante e quindi abbiamo tutto il diagramma del momento flettente allora il momento flettente assume valore 2 in corrispondenza di questo incastro naturalmente qua le timbre tese sono quelle superiori e quindi per noi un 2 negativo cioè un momento flettente negativo assume valore 0 qui e poi ha un andamento lineare l'espressione del momento flettente per tutto quanto è tratto non è altro che questa questa espressione qua per z uguale a 0 naturalmente il momento flettente vale si semplica questo LL vale meno 2 ok che è il valore del momento flettente che noi conoscevamo per z uguale ad L ovviamente questo fa 0 e quindi il momento flettente è 0 bene se vogliamo possiamo fare l'ulteriore prova banale se z è uguale a L mezzi ovviamente questo sarà meno 1 andiamo invece sul sistema degli spostamenti il sistema degli spostamenti noi abbiamo che c'è un tratto che non è caricato da un carico distribuito e un tratto che invece ha la presenza di un carico distribuito quindi già noi sappiamo che il diagramma del momento flettente deve essere in questo tratto lineare e in questo tratto paragonico bene che cosa abbiamo fatto per determinarlo la prima cosa che abbiamo fatto è determinare queste reazioni vincolari la reazione vincolare in particolare di questo appoggio qui che è l'appoggio C ok come l'abbiamo calcolata semplice abbiamo fatto l'equilibrio alla rotazione intorno a questa cermina dove il momento naturalmente deve essere nullo dei carichi esterni e quindi della risultante del carico dovuto al carico distribuito meno l'effetto della reazione va bene che è questa qui un po' di conti questa reazione viene Q e le quattie ok e naturalmente per l'equilibrio della traslazione verticale poiché tutto l'aggiuntante del carico distribuito è Q e le mezzi per l'equilibrio della traslazione verticale è anche questa e quella quattie ci siamo quindi calcolati il momento flettente in corripondenza di questa sezione facendo il calco del momento flettente provocato dal carico Q va bene che lavora questo carico Q l'intensità del carico la risultante vale Q per le mezzi e naturalmente ha un braccio che è 3 quarti di L va bene meno l'effetto di questa reazione vincolare che è Q e le quarti e ha un braccio tutto quanto facendosi qualche conto alla fine nel momento flettente in corripondenza dell'incasso viene Q e le quadro attacchi e tende le fibre superiore la prima cosa che possiamo capire è che in questo tratto abbiamo detto già è lineare qui sappiamo il valore del momento flettente l'altro valore del momento flettente lo conosciamo qui ed è 0 e quindi immediatamente sappiamo quanto vale il momento flettente qual è l'espressione del momento flettente in corrispondenza di questo primo tratto e in corrispondenza di questo primo tratto l'espressione del momento flettente è questa nel secondo tratto abbiamo un andamento classico parabolico come dire di trave affoggiata affoggiata però su una luce che non è tutta L ma L e mezza facendo un po' di ponticini che abbiamo fatto abbiamo trovato l'espressione del momento flettente anche nel secondo tratto questo è l'espressione del momento flettente realizzata compreso da L mezzi e L ok a questo punto una volta che abbiamo le espressioni del momento flettente nel sistema forze e quello nel sistema spostamenti possiamo entrare in questa formula e calcolare di conseguenza la rotazione relativica che cerchiamo l'abbiamo fatto naturalmente l'integrale l'abbiamo dovuto dividere in due integrali una somma di due integrali cioè tra 0 e L mezzi e da L mezzi ad L proprio perché il momento flettente ha due espressioni differenti nei due tratti il momento flettente nel sistema degli spostamenti ha due espressioni differenti nei due tratti e ci viene questa espressione qua questo è il momento per la curvatura nel tratto tra 0 e L mezzi questa è l'espressione del momento per la curvatura nel tratto tra L mezzi e L un po' di passaggi un po' di semplificazioni e alla fine facendo vari passaggi parliamo all'espressione finale che è questa qui che ci fornisce la rotazione relativa in B tra le due sezioni quindi in corrispondenza di questa scelta è chiaro dovete fare domande?